Un progetto che parte già da tre anni fa, perché siamo partiti con un'indagine, con un sondaggio proprio rivolto alle famiglie, ma soprattutto ai giovani del nostro comune. Nel comune di Sosso Corale di Torre abbiamo fatto quest'indagine, questo sondaggio nelle scuole. E siamo partiti da che cosa? Da una consapevolezza, cosa ci manca nel nostro territorio. Quindi abbiamo chiesto ai giovani perché c'era questa dispersione sportiva, perché non partecipavano alle attività proposte dalle varie associazioni del territorio, quali erano i problemi. Quindi sono emersi problemi economici, sono emersi problemi dovuti alla mobilità, perché siamo un territorio che non è collegato dai trasporti pubblici. Quindi quali sono quelle criticità che portano i giovani a non iscriversi alle attività sportive proposte dalle associazioni. Quindi grazie alla collaborazione delle associazioni presenti sul territorio, agli enti del terzo settore e all'amministrazione pubblica, siamo riusciti a candidarci a un bando ministeriale vincendolo. Ci ha portato ad ottenere un finanziamento che si trasformerà in attività per sviluppare progetti di sport inclusivo, sport per tutti. Quindi è un approccio allo sport gratuito. Quindi i giovani del nostro territorio, insieme alla loro famiglia, potranno iscriversi, partecipare alle varie attività sportive proposte dall'associazione gratuitamente. Sport e Salute è una società governativa. Noi lavoriamo in accordo con il Ministero dello Sport e dei Giovani e con il Dipartimento per lo Sport. Tutti i nostri progetti sono finalizzati alla promozione sportiva, sono finalizzati ai corretti e sani stili di vita e a garantire l'attività sportiva. Lo scopo e l'obiettivo è di costruire uno spazio dove possa esserci una crescita personale rivolta ai giovani e a quelli un pochino meno giovani, perché comunque il target va dai 14 ai 34 anni. Cercando di non solo fare attività sportive, ma attività ambientali, laboratori dove loro possono imparare anche a gestire e essere d'aiuto nel mondo dello sport, come aiuto allenatori e in questo coinvolgere anche le persone un attimino un po' più fragili che possono avere delle difficoltà. Quindi cerchiamo di creare un ambiente dove tutti quanti possono avere uno spazio di crescita personale, sociale e anche ambientale.